quando siamo entrati nei villaggi avevamo dei volontari che saccheggiavano una volta sono entrato in una casa c'era un gabinetto e una doccia io non ho quelle cose capisci mi vergognavo di entrare non paragonarmi agli altri io non sono come gli altri garantito al 100 per cento scusa quindi non hai un gabinetto e una doccia a casa non ne ho bisogno perché dovrei averli a casa per stare a pulirli tutto il tempo il mio gabinetto è fuori casa scusa quindi fai i bisogni all'aperto sì io vivo in un villaggio per me è normale non ho bisogno di pulire il gabinetto tutti i giorni e non voglio sentire puzza in casa perché qualcuno ha dimenticato di tirare lo sciacquone capisci sei serio quindi hai questo cubicolo di legno e sei contento così sì ma sai come si usa lo sciacquone di un gabinetto sì sai come ci si siede su una tazza e sì con il sedere appoggiando la schiena sì ma sai cos'è un orinatoio sì so cos'è guarda so adattarmi alla società sono una persona decente io quindi parlavi di saccheggi che cosa hanno preso i tuoi compagni hai detto che hanno raccolto dei volontari per il saccheggio nelle case ucraine qualcuno ha preso telefoni altri televisioni per quello che ho visto alcuni sono entrati in casa e hanno preso un tablet delle batterie io non avevo bisogno di quelle cose perché ho le mie i soldati ucraini me le hanno prese ma io non ho preso niente che non fosse già mio quindi cari amici questa è una bella intervista insomma chiudiamo con questa intervista chiudiamo il discorso di gabinetti e lavatrici voglio dire no fra l'altro questo questo soldato mi ha ricordato un tizio che conosciuto una volta che aveva la passione per fare bisogno all'aperto e lui si giustificava era un padre di famiglia voglio dire si giustificava dicendo perché dovrei ammorbare l'aria a casa alla mia famiglia no quindi avevo questa passione però insomma chiudiamo questo discorso anche perché penso che ormai sia abbastanza chiaro a tutti che molti soldati russi che si arruolano per combattere in ucraina vengono da villaggi sperduti che non hanno le fogne non hanno quel tipo di servizi quindi passiamo alle notizie di oggi e agli aggiornamenti come sempre prima di continuare vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un mi piace qui sotto troverete tutti i pulsanti di youtube per aiutarmi e portare avanti questo progetto quindi iniziamo con gli aggiornamenti sulla mappa le forze ucraine hanno catturato altro territorio nella regione di kursk spingendosi a nord est verso niciaev credo si pronunci così queste aree blu che sto evidenziando vi mostrano le porzioni di territorio presidiato dalle forze ucraine quindi i progressi letteralmente ed è aggiornato ai dati di ieri 26 agosto come vedete un'ampia porzione a nord est e a est è stata acquisita conquistata e a est una piccola fetta in direzione di push carno e a nord invece hanno raggiunto alexandrovka per quella che si profila come dicevo anche nei video precedenti una manovra a tenaglia per chiudere corenovo da parte russa in quest'area quello che possiamo notare è che sono riusciti a rallentare l'avanzata ucraina ma questo avviene con l'utilizzo massiccio delle loro forze aeree le icone con data 26 agosto mostrano quanto stanno cercando di contrastare l'avanzata ucraina proprio grazie a dei bombardamenti aerei cambiando zona e scorrendo quindi il confine in direzione della regione di belgorod bisogna smentire le voci di una avanzata ucraina ma queste icone di ieri ci mostrano che i combattimenti nella zona di voicias continuano soprattutto con attacchi dronici da parte ucraina alcuni anche in profondità per esempio questo un mezzo di artiglieria russo che è stato colpito da un drone passando poi direttamente a est fra ieri e oggi l'artiglieria ucraina ha colpito una postazione di artiglieria russa mezzi e posizioni poco più a ovest scendendo più a sud diamo un'occhiata anche all'area della cittadina di new york dove non si segnalano grandi cambiamenti nella conformazione del fronte ma come vedete ci sono attacchi dronici condotti con successo contro fanteria e mezzi russi l'area più calda è sempre l'avanzata russa in direzione di pokrovsk pochi chilometri più a sud ha incontrato la reazione dell'artiglieria ucraina le ultime segnalazioni vedono attacchi dronici e di artiglieria lungo tutta la linea dell'avanzata russa che continuano comunque a guadagnare piccole fette di terreno nonostante le enormi perdite poco più a sud nell'area di vulenar anche qui si segnalano scontri fra mezzi e colpi di artiglieria una cosa che si nota però fra tutte è che da quando le forze ucraine hanno occupato la regione di kursk i russi tendono a essare la loro bandiera un po ovunque posti a caso letteralmente case trincee aree senza nessuna rilevanza non sono neanche villaggi questo probabilmente è da attribuirsi alla necessità di produrre immagini e video validi per la propaganda televisiva e così dimostrare al pubblico che la russia invade l'ucraina con successo mentre l'ucraina invade con successo la russia non so se mi sono spiegato qualcosa del genere ora passiamo alle altre notizie avrete certamente sentito parlare del massiccio attacco missilistico con droni che c'è stato ieri contro l'area di kiev e ancora oggi fra l'altro verso la parte occidentale dell'ucraina i russi hanno lanciato qualcosa come 127 missili e 109 droni verso la capitale e le infrastrutture energetiche del paese in questa mappa per esempio vediamo la ricostruzione delle loro traiettorie ora ci sono diversi aspetti di questo attacco che andrebbero affrontati intanto la polonia nella voce del capo del comando operativo e generale macev sklitz ha segnalato che un drone un velivolo non pilotato si è probabilmente schiantato in territorio polacco durante l'attacco all'ucraina è avvenuto la mattina di ieri 26 agosto un oggetto non ancora identificato è entrato nello spazio aereo polacco e apparentemente atterrato in territorio polacco lo ha dichiarato il comando operativo dell'esercito si dice che non si trattasse di un missile che apparentemente si trovava si trattava di un veicolo senza pilota presumibilmente è caduto vicino alla città di confine di zerskovie e sono in corso le ricerche dell'oggetto come sappiamo poi per il resto l'attacco russo alle infrastrutture civili ucraine ha causato vittime si parla di almeno sette morti e molti feriti è stata presa di mira fra l'altro la centrale elettrica di vichrod che è stata colpita con danni minori ora chiaramente è una grossa centrale per distruggerla completamente servirebbero decine e decine di colpi a segno di questi missili circolano invece immagini per cui alcuni di questi droni e missili sono finiti in acqua un altro aspetto interessante di questo attacco russo e che bene ricordare fra l'altro attaccare le centrali elettriche è un crimine di guerra fra l'altro e ricordiamolo comunque la cosa interessante da dire che questo attacco è stato contrastato ovviamente con i met con i sistemi di difesa aerea ma anche con l'utilizzo dell'aviazione ieri mattina con l'utilizzo di elicotteri per esempio circola un video questo qui di un milotto che intercetta e distrugge un drone russo ed è un video interessante voglio dire un elicottero che abbatte un drone poi da parte di zeleschi è arrivata la dichiarazione per cui gli f16 sono intervenuti proprio in difesa di kiev fra ieri e oggi intercettando droni e missili e circola fra l'altro un video di poche ore fa dove mostra un aereo ucraino intercettare un drone dalle immagini non si riesce a capire se si tratti o meno di un f16 ma comunque per quello che posso dire io la scia bianca del missile e la distanza a cui viene tirato di pochi chilometri due tre chilometri non di più fa pensare che si tratti di un mig 29 o un su 27 che lancia un missile russo a corto raggio r73 dico questo perché questi missili russi fanno una scia bianca molto visibile cosa che gli aim 9 a prescindere dalle versioni non fanno una scia molto più diciamo più tenue non è così bianca quindi queste immagini probabilmente mostrano un mig 29 per come la vedo io un mig 29 che lancia un r73 contro un drone ma andiamo avanti siamo ormai al decimo giorno in cui il deposito di carburante presto rosto continua a bruciare in questo articolo di j smart fra l'altro due giorni fa diceva altre aree stanno prendendo fuoco quattro giorni fa il governo russo aveva detto che la situazione era sotto controllo e sì come no ma non è che forse mentono altre due buone notizie poi per l'ucraina vi leggo questo trafiletto secondo la società russa raibar l'aeronautica militare rumena ha dispiegato un radar mobile ltr 25 al coffine con l'ucraina vi mostro le immagini per supportare l'aeronautica militare ucraina nell'area del mar nero ora è piuttosto normale che queste nazioni piazzino i loro sistemi e vr e vr significa early warning radar sono delle antenne che servono per il monitoraggio e la scansione dello spazio aereo e questa è una cosa buona e giusta perché strumenti di terra sono disponibili sempre voglio dire solo dipende da quando sono accesi e sono accesi sempre insomma se poi questi sono fuori dai confini ucraini non possono essere colpiti quindi insomma forniscono una immagine molto chiara di quello che avviene su tutta l'area che vediamo evidenziata gli f16 in particolare ucraini essendo collegati al link 16 della nato possono vedere tutto quello che le forze nato vedono fondamentalmente si trasmettono i dati e dobbiamo sempre ricordare che oltre a questi sistemi di terra di cui tra l'altro anche gli ucraini dispongono non è che non ce l'hanno non dobbiamo dimenticare il ruolo fondamentale di tutti gli altri aerei logistici della nato che da oltre due anni e mezzo volano su tutta la parte occidentale del conflitto fornendo informazioni importantissime per le forze armate ucraine andando avanti notizia di due giorni fa un nuovo gruppo di soldati ucraini si addestrerà in germania all'utilizzo dei sistemi patriot e questa è una buona notizia allora altra notizia questa volta di oggi fresca fresca vi leggo il trafiletto l'ucraina ha condotto con successo dei test del proprio missile balistico voce zeleschi penso nei prossimi giorni avremo notizie più dettagliate di questo missile balistico ovviamente secretato però è un'ottima cosa che gli ucraini producono i loro sistemi missilistici fra l'altro zeleschi anche affermato in questo trafiletto dicendo nessuno firmerà il contratto con la russia per quanto riguarda la continuazione del transito del gas attraverso l'ucraina questa è la fine ha aggiunto mentre per quanto riguarda l'ultima notizia in chiusura avrete certamente sentito dell'arresto di pavel durov a parigi su cui pendono qualcosa come 12 capi di imputazione ora io non mi occupo di queste cose però hanno diciamo questa notizia ha un'importanza militare vediamo perché perché telegram diciamo è stata utilizzata ed è utilizzata dalle forze armate russe intanto bisogna dirlo questi 12 capi di imputazione non sono stati inventati dall'oggi al domani telegram è stata una piattaforma senza nessuna limitazione o giurisdizione per qualcosa come 11 anni cioè completamente fuori controllo diciamo che in linea di massima il fondatore si è fatto bello miliardario fregandosene di qualsiasi legge internazionale tutela sui minori dei consumatori e di oltre di ogni genere di cose assurde che la piattaforma permetteva e non posso parlarne per le regole di youtube perché appunto queste regole su youtube ci sono fortunatamente quindi non è chiaro perché questo personaggio poi si sia letteralmente consegnato alle autorità francesi sapendo insomma di questi capi di imputazione ora quindi i capi d'accusa verranno gestiti dalla giustizia francese dato che fra le altre cose lui è anche cittadino francese quindi non può scappare non è che può nessuno può chiedere l'estradizione nel frattempo però in russia si è sollevato un polverone perché come dicevo se qualcuno si ricorda avevo trattato questo argomento anche nei video precedenti avevo riportato che proprio le televisioni russe si vantavano di come le forze armate usassero telegram per us per le geolocalizzazioni per le trasmissioni di informazioni eccetera eccetera ed era un discorso un po surreale ma con una base di verità quindi è presumibile pensare che la preoccupazione di mosca sia più che altro dovuta ad una eventuale collaborazione di durov con le autorità francesi e quindi con la conseguente fuga di informazioni sensibili difficile dirlo ma come dire queste sono solo le mie opinioni o forse no diciamo di no vi leggo questo trafiletto proprio di oggi il ministro degli esteri russo sergei lavrov ha affermato che le autorità francesi hanno arrestato pavel turov per ottenere l'accesso ai codici di criptografia di telegram secondo il ministro degli esteri la francia ha preso tale decisione su consiglio di qualcuno ha anche aggiunto che le relazioni fra mosca e parigi sono al punto più basso anche a causa della posizione della francia sulla questione di libertà di parola signori ok fantastico comunque poi ha continuato la detenzione di durov ha dimostrato che il messaggero è veramente protetto ha affermato lavrov è divertente sentirlo da un uomo che promuove la politica di blocco di telegram in russia allora ci sono dei controsensi in quello che ha detto ovviamente primo perché la russia aveva fatto già tantissime pressioni in passato a durov per avere accesso a tutti i dati sensibili degli utenti di telegram ma proprio pressioni ai limiti tanto che appunto durov se ne scappò a un certo punto la russia ha utilizzato poi in maniera massiva telegram per acquisire informazioni per trasmettere informazioni quindi è chiaro che adesso ha paura che quelle informazioni vengano diffuse ma è evidente che questi personaggi non hanno la minima idea di come funziona l'informatica perché è ovvio che chi vuole carpire informazioni protette non si fa affermare dalla crittografia di telegram non è la crittografia il problema perché chi vuole accedere ai dati sensibili riesce comunque a farlo che si tratti di abilità degli uffici di intelligence occidentale o da parte di hacker è indifferente comunque è nelle corde delle possibilità ci sono addirittura aeroplani nato che possono fare questo tipo di ascolti su certe piattaforme e anche su certe frequenze comunque è proprio divertente questa ingenuità o stupidità palesemente dimostrata in queste affermazioni da parte dei politici russi non sanno che appunto il social media non è sicuro per definizione voglio dire nessuno si sognerebbe di usarlo per trasmettere informazioni militari critiche ma si stanno svegliando oggi fra l'altro l'invasione dell'Ucraina era stata prevista e studiata nei minimi dettagli dall'intelligenza americana non è un segreto i piani di quella invasione erano finiti sul tavolo di Zelensky mesi prima quindi gli ucraini sapevano perfettamente tutto il piano di invasione russo tanto che poi si misero in moto proprio per contrastarlo comunque in oltre due anni e mezzo di guerra l'europa lo sottolineo a setti militari che ascoltano e decriptano l'europa e l'america intendo decriptano ogni genere di comunicazione russa dalle comunicazioni via telefonino via radio attraverso i social quello che adesso si preoccupano di telegram fa abbastanza ridere in tutto questo fra l'altro dopo l'attacco di ieri notte contro chi che voglio dire no solamente uti e amassa avrebbero potuto fare di peggio dopo tutte queste vicende l'arresto di là di durov e le dichiarazioni di lavrov il fatto che lavrov parla di libertà di informazione e di parola è abbastanza ridicolo e dopo gli attacchi massicci missilistici verso Kiev e le infrastrutture energetiche che ricordo sono un crimine dopo tutto questo dopo due anni e mezzo di invasione della russia sul suolo ucraino e l'ipocrisia continua di proporre condizioni di resa praticamente incondizionata alla nazione invasa oggi pescov ci regala penso la sua migliore perla proprio la frase del secolo e ha detto le negoziazioni con l'ucraina hanno perso la loro rilevanza ma dai ma davvero e con questo vi saluto cari amici come sempre un abbraccio alla prossima